Amici di Fano TV, ben trovati. Questa sera parliamo di uno degli appuntamenti più attesi nella nostra città. Uno degli appuntamenti che sicuramente ci contraddistingue, che racconta la nostra storia proprio dalle origini. Il suo esordio risale al 1986 e fino al 2018 è andato avanti con un certo mood, seguendo un certo filone. Ci sono stati poi dei cambiamenti, delle battute d'arresto anche a causa degli eventi pandemici degli ultimi anni, ma ritorna la Fanum Fortune, diversamente nota come la Fano dei Cesari. Per questa edizione abbiamo l'assessore Lucarelli a parlarcene. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, un bel evento questo che abbraccia l'interesse di tutti i cittadini fanesi e non solo. Sì, diciamo che è un evento che ha avuto il carattere, ha avuto l'importanza di voler raccogliere tutta la città. Ha avuto questo carattere particolare, quindi bambini che giocano con la Romanità, fazioni che vi partecipano. Ma questo fin dall'inizio, fin dal 1986, ci ricordiamo le grandi foto che venivano scattate l'indomani con una partecipazione popolare senza precedenti, di persone che volevano sfilare all'interno dell'area Pincio in quest'area veramente suggestiva, appena passato l'arco d'agusto. E c'era proprio una rincorsa nella partecipazione, nell'andare a cercare abiti per potersi trasformare in quelli che sono insomma i romani d'un tempo. Noi l'abbiamo ripresa nel 2018, io allora non ero assessore, veramente dandogli un carattere particolare, non più soltanto la parata e la corsa delle bighe, ma una vera trasformazione della città. Da subito abbiamo portato a Fano dai due ai trecento rievocatori provenienti da tutta Italia, associazioni che realizzano tra più importanti eventi nel panorama nazionale, ma anche internazionale, perché poi sono gli stessi che insomma che fanno eventi in tutta Europa, che in quei giorni veramente prendono spazio in ogni luogo della città e la trasformano. In quei giorni insomma ci si può imbattere in momenti di ricostruzione militare civile, ci si può imbattere in alcune ronde che insomma i soldati romani fanno all'interno della città, oppure in alcuni momenti di vita civile. Quindi insomma l'invito è a partecipare e accogliere questa atmosfera magica che si creerà in quei giorni. Vogliamo fare anche qualche piccolo riferimento a cenno storico? Ma sì, sappiamo le basi, le fondamenta della nostra città. I romani sconfiggono i cartaginesi sulle rive del fiume Metauro, da lì insomma nasce un tempio dedicato alla Dea Fortuna e 200 anni dopo l'imperatore Cesaro Ottaviano Augusto, abbiamo la stato proprio all'interno del Pincio in grande posa, Cesaro Ottaviano Augusto arriva costruendo la via Flaminia che da Roma porta a Fano, arriva a Fano e qui costruisce una vera e propria città, la colonia Iulia Fanestris, è completa con un'imponente porta di accesso che è l'attuale Arco d'Augusto, delle imponenti mura e all'interno un anfiteatro, un teatro, delle domus romane, quindi una parte residenziale, un vero e proprio foro, si fa aiutare da Vitruvio e Vitruvio dice proprio nel De Architettura di avere costruito qui la Basilica, quindi una città che fonda proprio le sue radici sulla storia romana. Ecco noi vogliamo rievocare questi momenti, vogliamo far sì che la città risplenda con questo carattere importante che è la Romanità, che è l'arrivo dell'imperatore Cesaro Ottaviano Augusto, che è l'architetto Vitruvio che con la sua intelligenza ha costruito delle pregevoli opere nella nostra città. Dal 14 al 17 luglio quindi la nostra città sarà veramente invasa da una Romanità e da altrettanto spirito da antichi Romani, non soltanto l'area Pincio ma un po' tutte le zone di Fano. Sì, io devo dire questo grazie ad un'organizzazione ampia, dovuta da tante associazioni che si mettono subito in gioco quando si parla di Fano un Fortune, professionisti della rievocazione storica che fanno delle ricostruzioni veramente puntuali, poi ve ne parleranno i diretti interessati, ma anche una partecipazione popolare diffusa di persone che insomma cerchiamo di controllare perché vorremmo portare sempre più qualità all'interno dell'arena del Pincio, dell'area del Pincio per la parata, ma che in quei giorni veramente si vestono con ogni cosa pur di partecipare a questi momenti. Quindi la città a tutto campo a 360 gradi vedrà la partecipazione di adulti, di bambini e di tante attività, di momenti di ricostruzione storica ma anche di momenti di divertimento e questo grazie ad un lavoro importante che si sta facendo. Un anno difficile, dobbiamo dirlo, perché insomma riprendiamo dopo due anni di pandemia e insomma fino a gennaio la pandemia era attiva, quindi abbiamo deciso comunque di riportare in auge questa manifestazione anche con la corsa delle bighe dal mese di febbraio, quindi veramente poco tempo per l'organizzazione, però quanto il gruppo è saldo e lavora bene insomma si arrivano sempre a delle grandi conclusioni e tutto questo lo vedremo dal 14 al 17. 14 con un grande momento di inaugurazione, il 15 con una giornata dedicata in modo specifico ai bambini, il 16 con grandi spettacoli artistici dapprima dedicati alle fazioni e poi con una grande ricostruzione del tema di quest'anno che è i popoli conquistati che avverrà nell'area Pincio a cura della colonia Giulia Fanestri, mentre in altre zone abbiamo i rievocatori grazie al gruppo Simmachie e Lenon che insomma ci aiuta a coinvolgerli in modo pieno e poi il grande momento della domenica con Pompamagna, quindi questa grande parata con le fazioni che si dovranno ritrovare alle ore 18 e poi dalle 20 l'ingresso al Pincio per arrivare al momento più atteso che è la corsa delle bighe che avverrà circa dalle 21.30 in poi sempre nell'area del Pincio. Bene, abbiamo dato così una carrellata generale dell'evento e adesso insomma con gli altri ospiti scenderemo nel dettaglio. Grazie Assessore. Grazie a voi. In questa prima puntata non sono da sola, ci sono altri ospiti oltre all'Assessore che abbiamo appena salutato. Do il benvenuto a Francesco Simoncini, buonasera e Marco Giordani. Buonasera. Per parlare di ricostruzioni, di spettacoli e di gruppi storici che accompagneranno anche questa edizione in un susseguirsi di eventi in compagnia di rievocatori. Allora Francesco, io partirei da Palazzo San Michele. Sì, grazie anche alla collaborazione della Università. Palazzo San Michele in questi giorni prenderà vita con una domus, una domus romana, una ricostruzione attenta di quello che poteva essere appunto l'abitazione di un patrizio romano, con nuove scenografie, con momenti di spettacolo, danza, musica. Se posso anche ringraziare la collaborazione della New Latin Academy che sarà presente con i suoi ballerini e quindi potremo rivedere tutto quello che poteva essere lo spettacolo di duemila anni fa. Continuando nel percorso ricreato dentro l'Università, dentro il Palazzo San Michele e rifacendoci al tema della Fano Fortuni di quest'anno che sono i popoli conquistati, rimettiamo in scena chi ha conquistato questi popoli, ovvero la legione romana. La legione romana in suoi 1200 anni di storia prende vita appunto nel cortile con una caserma militare. Potremmo interessarci alle varie armature del periodo arcaico, poi passando con quello repubblicano nelle sue varie fasi, terminando con il periodo imperiale e quindi riconoscere e rivedere e essere interessati a quello che era la vita quotidiana di un legionario romano. Legionari romani che comunque avranno modo di farci vedere anche altri aspetti della loro vita quotidiana, ovvero esercitazioni o come passavano il tempo con la manutenzione delle armi o addirittura come mangiavano e cosa avevano nel loro fardello che si portavano continuamente dietro durante i loro trasferimenti. E quindi questa è l'attività che verrà effettuata all'interno del cortile di San Michele. Quindi è una curata ricostruzione e minuziosa, proprio ben dettagliata, ben curata per fare un salto indietro nel tempo. Sì, la nostra parola d'ordine è il modus vivendi dell'antica Roma e quindi nell'aspetto militare cerchiamo di riprendere e catalogare bene le varie fasi e anche i vari armamenti. Quindi è uno studio che precede tutta la ricostruzione e tutto quello che viene poi realizzato dai nostri soci. Marco, per queste riproduzioni, chiamiamole così, concedetemi, passatemi questo termine, fedeli, è necessaria una collaborazione importante con i gruppi storici. Sì, è la base della nuova Fanno Fortuna, perché fin dall'edizione 2018 il nostro gruppo si è incentrato a seguire tutto il coinvolgimento a livello nazionale e internazionale dei migliori gruppi storici che ci sono dell'evo antico, perché noi andiamo ad abbracciare quel periodo della storia di Fano che ha reso poi grande la città di Fano, quindi con le sue fondamenta romane, quindi è una festa romana. Il tema ci aiuta quindi a coinvolgere anche altri gruppi storici, quindi che fanno parte di altre popolazioni che hanno interfacciato e si sono diciamo scontrati con il popolo romano, quindi parliamo dei Celti, come i Galli Senoni che sono scesi fino nelle Marche, hanno il nome di Senigallia, deriva proprio anche da quello. Noi nel nostro piccolo ci piace la Grecia e quindi facciamo gli antichi greci, dove infatti Ancon, il nostro capoluogo è greco, è stato fondato una colonia greca e per questo potrete trovare in zona Pincio tutta la parte della ricostruzione dell'antica Grecia, quindi uno spaccato del simposio atenese. Adesso devo leggere i gruppi perché sono tanti, grazie ai figli del sole da Reggio Emilia in collaborazione con il nostro gruppo, vedrete una dimostrazione degli artigiani all'opera, quindi come si ricostruivano delle scarpe, come si lavoravano i vasi, come si dipingeva e il simposio, come dicevo, cura dei figli del sole. Spostandoci, poi scendendo avremo sempre accampamenti romani, quindi come diceva prima Francesco ci sarà una vita da campo proprio del legionario, quindi ci saranno addestramenti ad opera dei gruppi Centuria Picena e la Leggio XIII di Rimini e andando verso le mura augustee noi vedremo i popoli, noi li chiamiamo barbari, però hanno insegnato tanto anche a Roma, grazie al gruppo Torknamoyer di Ancona, Furor di Santa Margherita Ligure, Caetoriches, Teotacenomeni e Icecranna. Poi siccome volevamo ravvivare tutto il centro storico abbiamo pensato di attivare tutta la parte del corso Matteotti con piazza 20 Settembre e ci saranno altri gruppi storici provenienti sempre da tutta Italia, la Leggio Sesta Ferrata, i Ludus e i Milius che sono dei gladiatori molto bravi, nelle passate edizioni partecipavano con la Legione, con la Leggio XII fulminata, quest'anno in veste di gladiatori. Ci sarà anche la decima Leggio di Giuseppe Cascarino, Civiltà Romana da Roma e più vicino alla piazza 20 Settembre potremo trovare la Leggio I Minervia e la Leggio XVI Flavia di Otriculum. Benissimo, Francesco dobbiamo aggiungere che cosa? Alcuni momenti di spettacolo. Abbiamo ripreso quello che per noi è una caratteristica nella Fanum Fortune, ovvero parlare del mito, della mitologia con il rito e quindi il sabato sera, intorno alle 22, 21, 45, 22, la colonia Iulio Fanestris proporrà tra rito e mito dipendiamo da un filo, ovvero dove il tema conduttore è appunto il filo, il filo nelle sue varie aspetti che può essere il filo da Arianna o il filo della tessitura di Penelope fino ad arrivare a parlare del filo delle moire, ovvero le parche che alla fine decidono sulla vita degli umani. Questo è uno spettacolo molto interessante e uno spettacolo che ci vede coinvolti come associazione con anche delle proiezioni sull'arco. Lo spettacolo avverrà di fronte all'arco d'Augusto, quindi nell'area Pincio, dalla statua di Cesaro Ottaviano fino appunto alla Porta Agustea e con delle musiche suggestive, dei balletti come ho appena accennato effettuati dalla New Latin Academy, rivedremo e ripercorreremo quello che è stato il filo nella storia. E poi anche il giovedì, il giorno dell'inaugurazione, l'eternità del fuoco. Il fuoco del 2019 ha concluso quella Fanon Fortune e riprende vita con l'accensione del bracere, l'accensione che avverrà grazie alle nostre vestali e al sindaco di Fano, che accenderanno il bracere della Fanon Fortune per poi consegnare questo fuoco sacro alle varie associazioni che parteciperanno all'evento e alle quattro fazioni. Quindi un interessante momento di spettacolo, concluso poi con delle giocolerie col fuoco di Toy Eye Eventi. Aggiungiamo che, come dicevo prima, il coinvolgimento nazionale è importante, visto l'ottica che vuole avere la manifestazione nel lungo periodo. Sicuramente col sostegno da parte del Comune, la Proloque e tutte le varie associazioni come noi, i gruppi storici di Fano, l'associazione non avrebbe questa ridondanza mediatica. Quindi è importante, come dicevo prima, avere la partecipazione viva, oltre che delle fazioni cittadine, anche da parte dei gruppi storici nazionali. A livello internazionale, infatti, nel 2019 abbiamo contribuito a far sì che i nostri due eventi, Fanon Fortune e le Grands Jours Romains di Nîmes si gemellassero e quello è stato un passo abbastanza importante, che ci porta poi infatti allo spettacolo, prima di quello della Colonia, di combattimento a cura di Epica, che è un'associazione che è specializzata su combattimenti di simulati con armi bianche, dove si vedranno proprio delle vere battaglie non decise a tavolino, proprio per bambini e genitori di tutte le età. Sarà un momento di ricostruzione dei pillole storiche e poi si vedrà come si evolverà ogni singola battaglia. Poi ci sarà domenica il corteo a cura di tutti i gruppi storici con anche delle ricostruzioni militari da parte della famosa testudo romana, quindi tutti i gruppi romani coordinati dalla Colonia entreranno e cercheremo di contrastarli con i popoli conquistati. Cercheremo di fare la testudo più grande d'Italia, più numerosa almeno. Assolutamente sì, quindi invitiamo tutto il pubblico a casa, io ringrazio intanto i nostri ospiti, ringrazio i rievocatori, ci sarà una seconda puntata in cui parleremo ancora di Fanon Fortune, un grazie a Riccardo Sora in regia e a tutti voi dell'attenzione, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.